salve a tutti amici artisti con questo video finalmente si dera la mia prima intervista doppia la farò con daniele quindi non perdiamoci in chiacchiere e questa dell'intervista nome daniele mariano cognome cavallino baghetti nick mail su instagram mariano baghetti età 18 28 38 cristo 42 da dove vieni napoli da napoli come vi siete conosciuti chi è il più bello quanto sei alto chi è il più timido le tue fobie che musica ascoltate allora la musica mi piace tutta in generale ascolto tutti di musica forse faccio prima dire quale non mi piace quale non ascolto il mio melodico poi resta invece che lo daniele nel progetto social preferito piatto preferito questo mariano sono venti anni che non ha i capelli quando pensi di farti intrapianto mi sono venti anni a fare i capelli nel caso di farli crescere di ripiandarli serie tv preferita spartacus viking attori preferiti attori preferiti animi preferiti più che animi manca c'è di guampano c'è di guampano c'è di un po' di gigante ma zinga pensi che daniele sia un bravo video la parolaccia che usi più spesso caccia voce caccia voce caccia voce cristo e fanculo credi in dio credi in dio ah ma lo sto chiedendo da un po' di tempo ah beh beh chi lancia più madonne ah non lo so io io No io Io No io Porca Portana la madonna Portan 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 Pensi che Mariano sia un bravo youtuber Impostante Sì sì Insultatevi Ciao belato Ciao si chiina Salutatevi Ciao belato la mia merda Ciao piccolo stronzetto Spero che questa intervista doppia vi sia piaciuta Lasciate like e iscrivetevi al canale Arrivate a 200 like Ci saranno la intervista doppia